Una riflessione comune per definire obiettivi e linee guida per la ripresa economica e produttiva dell'Umbria. Con questo scopo, in un'ottica di impegno comune, si è riunito il Tavolo Generale dell'Alleanza per lo Sviluppo dell'Umbria. Uno strumento che la Regione utilizza per mobilitare le forze e i soggetti regionali pubblici e privati intorno a scelte, obiettivi e strategie da mettere in campo. Crescita, occupazione e lavoro sono stati temi individuati dalla Presidente della Regione Umbria, Katiuscia Marini, intorno ai quali concentrare l'impegno congiunto di tutti i soggetti coinvolti. Tra le necessità individuate, avviare una riflessione comune per definire entro i primi mesi del 2013 obiettivi strategici e linee di sviluppo per ciò che riguarda la prossima stagione della programmazione comunitaria e discutere le linee generali del documento annuale di programmazione e del bilancio regionale 2013. Argomento questo che sarà approfondito in una nuova riunione dello stesso Tavolo che si terrà a metà gennaio, a fronte di una situazione che continua a far sentire i suoi effetti negativi su tutto il sistema economico regionale, con la manifattura che subisce pesanti contraccolpi, come anche i comparti dei servizi e dell'artigianato. E' risultato evidente quindi nelle intenzioni della Presidente della Regione come il Tavolo Generale, massimo organismo politico dell'Alleanza per lo Sviluppo, debba superare la mera funzione concertativa e assumere quella più operativa di confronto ed elaborazione di nuove strategie. Grazie! Grazie!